Il progetto parte dall'iniziativa della Lecanavale di Acitrezza e coinvolge tutte le Lecanavale della Sicilia ed è il progetto peripro della Sicilia per vela senza barriere, senza barriere sia fisiche che economiche che sociali. Quindi questa imbarcazione della vela d'altura partendo dalla Lecanavale di Acitrezza farà il giro della Sicilia e coinvolgerà in ogni etapa i ragazzi con disabilità fisiche, sociali o economiche e delle varie sezioni della Lecanavale. Da noi è previsto questo arrivo intorno al 1-2 maggio e in questi giorni promoveremo la vela d'altura a questi giovani con questo tipo di disabilità. In questo progetto di vela senza barriere del peripro della Sicilia abbiamo coinvolto anche la collega avvocato Tiziana Barona garante delle persone disabili per il Comune di Trapani e tramite lei abbiamo coinvolto alcune associazioni in particolare la Solidalmente, la Sportivamente, le Luci del Dopo di Noi, la SD Bask in Trapani oltre che le scuole dello scientifico e del classico. Quindi ringraziamo questa associazione oltre alla collega Tiziana Barona che ci ha dato questo sostegno e anche con loro faremo questa promozione per i ragazzi disabili della città.